Incidente stradale sulla Flaminia muore un sessantenne Cagliese. Migliaia di over 50 pesaresi senza vaccino da oggi scattano le molte. Al mercato gli affari stentano l'inverno duro degli ambulanti. I campanili distrutti di Fano rivivono i documentari di Mazzanti. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale di oggi martedì 1 febbraio che apriamo purtroppo con la tragica notizia di un incidente mortale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale Flaminia. Incidente avvenuto al chilometro 239 fra Acqualagna e Cagli. A perdere la vita è stato un uomo di 61 anni di Cagli che per cause ancora in fase di accertamento si è schiantato frontalmente con un camion di una ditta pesarese. Proprio il camionista è stato il primo a soccorrere l'automobilista ma per il 61enne non c'era nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco 118 e polizia stradale. La superstrada è stata chiusa al traffico per diverse ore a partire dalle 13 con la viabilità deviata su strade secondarie. E cambiamo completamente argomento. Da oggi 1 febbraio partono nuovi obblighi di green pass in alcuni luoghi pubblici e soprattutto le prime multe per i cittadini con più di 50 anni senza vaccino come imposto dal governo attraverso un decreto d'inizio gennaio. Sono però ancora 14.000 i cittadini della provincia di Pesaro senza vaccino e da oggi passibili di sanzione. Vediamo il servizio. Inizia febbraio ed inizia con il primo vero obbligo vaccinale anti-covid. Quello traducibile in sanzioni pecuniarie al di là dell'accesso in luoghi che richiedano o meno il green pass. Da martedì 1 febbraio infatti il vaccino diventa obbligatorio per tutti i cittadini italiani con più di 50 anni. Un obbligo deciso dal governo il 5 gennaio scorso. Ma sono trascorse tre settimane dall'emanazione del decreto e ancora ci sono ben 14.000 over 50 della provincia di Pesaro Urbino senza nemmeno la prima dose di vaccino. 14.000 persone che da oggi diventano a rischio multa. Cifra che si gonfia 53.000 considerando i Novax over 50 presenti nella regione Marche. Le sanzioni saranno di 100 euro e riguardano anche chi non ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose oppure non l'ha completato nei termini temporali previsti. Ad occuparsi delle multe saranno direttamente organi di vigilanza ministeriali che si baseranno sulle consultazioni degli elenchi dell'Asur. Una multa di 100 euro che potrebbe essere ad apripista a sanzioni ben più gravose. Quelle che dal 15 febbraio prevedono che gli over 50 potranno recarsi sul posto di lavoro solo col green pass rafforzato. Tradotto possono lavorare solo da vaccinati. E qui le multe andranno dai 600 ai 1500 euro. Altre novità, da oggi il primo febbraio la durata del green pass passa da 9 a 6 mesi. Mentre per quello che riguarda il green pass base ottenibile col semplice tampone negativo da oggi diventa obbligatorio anche per accedere a banche, poste, centri commerciali o negozi di quali ad esempio abbigliamento o librerie. Restano esentate dal green pass le attività commerciali ritenute di prima necessità dai generi alimentari alle farmacie fino ai rifornimenti carburante. Da quasi una settimana continua ad abbassarsi l'incidenza da contagio nelle Marche che oggi si attesta a 2.317 contagi ogni 100.000 abitanti ma continua a crescere il dato dei ricoveri. Oggi se ne contano 408, cioè 24 in più di ieri, di cui 61 in terapia intensiva. I contagi sono invece 6.167 di cui 1.237 nella provincia di Pesaro Urbino per una percentuale del 38% dei tamponi positivi al contagio. 8 i morti registrati oggi di età compresa fra i 54 e 91 anni. Nel servizio che avete visto poco fa ci siamo occupati delle varie attività in cui da oggi serve il green pass. Tra queste non rientra l'accesso ai mercati cittadini. Al mercato del San Decenzi o a Pesaro però gli affari continuano a stentare come ci hanno spiegato gli ambulanti che abbiamo ascoltato questa mattina nel consueto appuntamento settimanale del martedì. Martedì 1 febbraio, oggi una giornata importante. In questa data entra in vigore anche l'obbligo del green pass base in alcune attività commerciali, nella gran parte delle attività che non riguardano i generi di prima necessità. Green pass che non serve invece al mercato. Oggi siamo al mercato San Decenzi, primo di febbraio. Una giornata di sole assolutamente piacevole per essere nel cuore della giornata invernale. Un po' più di movimento rispetto alle ultime settimane. non abbastanza per soddisfare ambulanti che lamentano comunque un certo stato di crisi per quello che riguarda l'attività, vuoi per quello che sono le conseguenze dei contagi, vuoi per quella che è l'ubicazione particolare del mercato San Decenzi che continua a non essere il massimo del gradimento per gli esercenti. Purtroppo questo clima nonostante inviti alle passeggiate non ci soddisfa in quanto c'è poca gente al mercato. Secondo noi dovuto a queste quarantene non solo per i positivi ma anche persone negative che vaccinate devono stare a casa in quarantena e quindi è un grosso danno per noi commercianti. Non solo qui al mercato ma anche in centro purtroppo è la stessa cosa. Non c'è gente in giro e quindi siamo messi peggio dell'anno scorso che non c'erano i vaccini ed eravamo in zona gialla e arancio. È vero che le terapie intensive sono vuote però purtroppo a livello commerciale è un disastro. Magari Pesaro è un po' particolare perché il mercato, la zona è quella che è, però di fatti si vede la differenza con la terza domenica che siamo in centro e anche se a gennaio il mercato diciamo c'erano i saldi però c'è più gente, c'è più voglia di comprare, c'è più armonia. Qua è un po' dispersivo, si sa. È così, ormai è così. È una stagione molto misera, molto asciutta, molto povera. Purtroppo le cose al mercato non funzionano bene, un po' perché la gente ha paura di questo Covid, è comunque molto spaventata, un po' perché il mercato ha bisogno di essere sistemato, perché è un mercato dispersivo, perché comunque mancano gli ambulanti per tanti motivi, quindi è una stagione alquanto povera mi sento di dire. Dico solo che il mercato va un po' accorpato, è dispersivo perché molte vie rimangono per la metà vuote di banchi e giustamente la gente non è invogliata a entrare nelle vie dove magari vede solo 4 o 5 bancarelle. Quindi secondo me c'è un problema proprio anche di riqualificazione del mercato. Non sto dicendo di diminuire gli spazi, ma di fare una riqualifica. Commercio in crisi, non meno la ristorazione, c'è però chi reagisce continuando a investire. È il caso della catena di ristorazione Self Service Pesce Azzurro, che è in procinto di aprire il suo secondo ristorante nella città di Fano. Vediamo. La crisi pandemica non ha certo risparmiato la ristorazione. Eppure c'è chi la combatte continuando ad investire. È il caso del pesce azzurro, catena di ristoranti Self Service dedicata al prodotto ittico dell'Adriatico, che ora punta ad una seconda apertura su Fano, ragionando sull'area dell'ex zuccherificio. Effettivamente stiamo ragionando su questa possibilità. I nostri tecnici stanno lavorando anche nello specifico su un immobile preciso che si trova appunto nella zona ex zuccherificio per aprire un nuovo punto con un format simile all'attuale, magari sicuramente con delle modifiche visto e considerato che in quel luogo pensiamo di andare incontro un po' all'esigenza dei lavoratori, dei lavoratori della zona. Una nuova apertura per allenire le ferite di una crisi che in questo biegno ha comportato anche scelte dolorose. Stiamo andando bene, nonostante la crisi che purtroppo sta investendo nel settore, la crisi pandemica ovviamente non ci lascia indenni, anzi diciamo che pesce azzurro avendo necessità proprio per la tipologia di ristorazione, per quello che è insomma il rapporto qualità e prezzo ha bisogno di fare numeri elevatissimi, quindi pur avendo dei numeri importanti anche adesso ovviamente ne risentiamo tanto insomma di questa crisi pandemica avendo raggiunto purtroppo solo il 50% di quello che era il periodo pre-Covid. Stiamo soffrendo da un poco e questo ci ha portato per la verità anche alla chiusura di un paio di punti che avevano delle dimensioni minime, erano piccoli quindi non consentivano in sostanza una gestione con il dovuto distanziamento e mi riferisco al punto di Milano Marittima e a quello di San Benedetto che abbiamo chiuso uno l'anno scorso all'inizio della pandemia nel 2020 e uno adesso a fine 2021 però ecco stiamo ragionando e valutando insomma l'ipotesi come dicevo di aprire un altro Piafano perché pensiamo che possa avere questa potenzialità. Oggi in occasione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre nel mondo il Comune di Pesaro ha aderito alla campagna Stop alle bombe sui civili. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra per sensibilizzare contro l'uso indiscriminato delle armi esplosive nelle aree abitate durante i conflitti armati. A Metauriglia di Fano partiranno questo weekend gli attesi lavori per la realizzazione delle scogliere nel tratto a sud del Metauro. Si tratta di un intervento di 4,2 milioni di euro la metà erogati dalla Regione Marche e l'altra metà da parte di RFI con il Comune di Fano responsabile del progetto a sovrintendere tutte le fasi dei lavori. Per l'intervento sono state prelevate 100 mila tonnellate di scogli dalla vicina Croazia a cui si aggiungono le 50 mila tonnellate. Verranno realizzate 6 scogliere di lunghezza compresa fra 160 e 200 metri. Confcommercio Marche Nord e Camera di Commercio delle Marche si sono incontrate oggi per confrontarsi sul bilancio positivo dell'itinerario della bellezza ovvero il progetto di promozione e valorizzazione ideato 5 anni fa. ha oggi arrivato a contare ben 16 comuni. Nell'occasione la direzione di Confcommercio ha consegnato al presidente Sabatini la targa dell'itinerario 2021-2022 in riconoscenza al costante sostegno dell'ente camerale in questi 5 anni. E cambiamo argomento e vi segnaliamo che nella notte appena trascorsa e precisamente a mezzanotte e 12 c'è stata una lieve scossa di magnitudo 2 con epicentro a pochi chilometri dal centro abitato di San Lorenzo in campo. Il sisma è avvenuto a 41 chilometri di profondità senza procurare danni a cose o a persone. E cambiamo di nuovo argomento, questo è lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Le immagini che vi mostriamo ora ci sono state infatti inviate da un nostro telespettatore e mostrano un attraversamento, come state vedendo, notturno di mezza dozzina di cinghiali a Pesaro. In questo caso sono in prossimità di una delle rotatorie di Villa Fastigi. Un fenomeno, come vedete, da questi ultimi tempi sempre più frequente di cui ci siamo occupati anche noi di Rossini TV la scorsa settimana in occasione di un incidente stradale avvenuto nella statale fra Pesaro e Fano a causa proprio di un attraversamento di un simile gruppo di animali. E allora noi ringraziamo il nostro telespettatore e vi invitiamo, come sempre, a continuare ad inviarci le vostre segnalazioni. In questo caso il nostro telespettatore ci ha mandato un video ma potete mandarci foto o messaggi di testo al numero di WhatsApp dedicato 370 366 72 10. Esattamente dieci anni fa a quest'ora cadevano i primi fiocchi di neve nel nostro entroterra in quella che dal giorno seguente si sarebbe rivelata una nevicata colossale con tutti i crismi della calamità naturale. Ci furono sette morti, decine di cedimenti e centinaia di famiglie isolate. E allora riviviamo il ricordo di quella nevicata del 2012 attraverso queste immagini. Era il primo febbraio del 2012 quando nell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino cominciarono a cadere i primi fiocchi di neve che il giorno seguente avrebbero seppellito l'intero territorio passato in poche ore dal fascino della coltre bianca al dramma della calamità naturale. Sono trascorsi dieci anni da quell'incredibile nevicata del 2012 che mise in ginocchio un territorio alle prese con la più grande precipitazione dal 1956. A Urbino si superarono i due metri di neve al suolo e si sorpassarono i 327 cm in un arco di precipitazioni che durò quasi un mese. Neve senza precedenti anche a Pesaro ma furono le aree più collinare e montane a cadere in un dramma che causò isolamenti di anziani e soggetti fragili, devastò gli allevamenti e causò pure sette vittime come ricordato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci all'epoca presidente della provincia. Ed è stato innanzitutto difficile far capire cosa stava succedendo perché la neve in genere è considerata una cosa bella, divertente, che piace ai bambini. Invece noi per diverse settimane abbiamo avuto più di tre metri di neve nelle aree interne e almeno un metro e mezzo nella costa. Tutto bloccato, cadevano gli alberi e da subito abbiamo dovuto cambiare i piani dell'emergenza. Il tema non era più liberare le strade ma salvare le persone. Le mamme che dovevano andare a partorire all'ospedale rimanevano bloccate, gli anziani che non avevano le medicine, le famiglie che abitavano nelle zone più disperse e che non avevano i viveri, saltava la luce. È stata davvero una guerra o meglio un terremoto bianco perché poi per far accendere i riflettori su di noi ho usato questo termine perché a un certo punto le persone cominciavano a salire sui tetti per liberare i tetti e spesso e volentieri cascavano dai tetti. Abbiamo avuto più di sette morti, crolli di beni monumentali, di fabbriche, di stalle. È stata davvero una grande tragedia. La ricordo con grande sofferenza ma anche ricordando la grande capacità del nostro territorio di fare squadra tra le istituzioni, i volontari, la protezione civile. È stato davvero un lavoro di squadra dove nessuno si è risparmiato e tutti siamo stati in prima linea. E sicuramente tutti ricordano nitidamente quella nevicata del 2012 ma forse sono in pochissimi quelli che invece possono avere memoria dei tragici eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale sul nostro territorio. Fra quei pochi c'è l'infaticabile documentarista fanese ma pesarese d'adozione Gastone Mazzanti che a 93 anni ha realizzato uno straordinario lavoro di ricerca che dall'8 febbraio verrà trasmesso su Rossini TV con cinque puntate dedicate alla distruzione di sette campanili nella città di Fano, poi solo parzialmente ricostruiti. E allora ascoltiamo Gastone Mazzanti in questa intervista. Questo che sarà l'ultimo lavoro della serie nel campo della ricerca storica concerne un avvenimento di grande importanza una cosa che la maggior parte dei fanesi non conosce o conosce in una maniera del tutto superficiale e concerne l'atto dinamitardo dei tedeschi prima della loro ritirata che abbatterono sette campanili della città. Ripeto, è un avvenimento significativo e deve, lo sottolineo proprio, lo rimarco, deve essere conosciuto. Ero di fronte ad un dilemma quando ho iniziato il lavoro cioè come realizzarlo. Ho pensato soprattutto ai giovani e quindi tratto anche avvenimenti che concernono la guerra nel senso lato, quindi avvenimenti accaduti anche per l'arbor, per dire Dresda e via dicendo. Quindi è un lavoro dedicato ai giovani e tant'è che faremo omaggio di una copia del documentario a tutte le scuole comunali. Documentario che è di cinque puntate ciascuno dalla durata di 45 minuti e riguarda la distruzione dei sette campanili della città. Fano quella volta era più bella di quella che vedo oggigiorno. Certo che un avvenimento accaduto nel 1944 potrà essere ricordato soltanto da quelli che hanno da 78 anni in su. un fatto, questa distruzione, che pone Fano al primo posto nella graduatoria nazionale per questi atti barbari, barbare protesse dei tedeschi che hanno abbattuto sette campanili. Primo è Fano, secondo Faenza, terzo Empoli nella graduatoria nazionale. Troverete documentazione reperita presso gli archivi del Public Record Office di Londra, della Royal Air Force, inoltre quelli reperiti anche al National Archive di Washington e addirittura in Alabama, nella capitale Montgomery, dove c'è una grande biblioteca, una base aerea di Maxwell, una delle più grandi negli Stati Uniti. L'ultima puntata è quasi tutta dedicata alla ricostruzione perché di sette campanili atterrati e ridotti a macerie ne sono stati ricostruiti quattro, tre in malo modo e uno che rispecchia quello che c'era, dove era e come era. E allora ringraziamo davvero Gastone Mazzanti per questa memoria storica preziosissima. Tra l'altro avete già visto su Rossini TV il documentario Le stelle continueranno a brillare, che vi è piaciuto moltissimo e che racconta appunto aneddoti della seconda guerra mondiale nel nostro territorio. Allora vi ricordiamo questo nuovo lavoro di Gastone Mazzanti che partirà martedì 8 febbraio alle 21.20. Queste cinque puntate, una volta a fan c'eran i campanili. Quindi un racconto storico e veramente un documentario meraviglioso che io vi consiglio di guardare con molta attenzione. e poi vi ricordiamo invece la prima serata di questa sera. Questa sera trasmetteremo la sintesi di quello che è stato il seminario Para Pentathlon, il faro della vita. Un seminario in cui sono stati raccontati gli obiettivi, gli strumenti, le attività per lo sport inclusivo. Domani torna la nostra rassegna stampa alle 7.20. Buongiorno Rossini, il nostro appuntamento da lunedì al sabato con la lettura dei quotidiani locali. Mentre abbiamo da segnalarvi anche che domani 2 febbraio alle 18.30 in diretta dal Duomo di Pesaro trasmetteremo le celebrazioni della giornata della vita consacrata. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. L'appuntamento è quindi a domani mattina in diretta alle 7.20. Vi ricordo che saremo in diretta sia sul canale 633 ma anche sulla nostra pagina Facebook. Buona serata.